buonasera dalla redazione di firenze smart in studio marco gargini iniziamo dalla 11 dove ci sono cinque chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 25 tra monte catini e prato ovest in direzione firenze sempre in a 11 code per traffico intenso tra firenze ovest prato est in direzione pisa spostandoci sulla 1 code per lavori in uscita a firenze sud provenendo da bologna sempre in a 1 stanotte in orario 22 6 sarà chiusa l'entrata di valdarno in direzione roma per la viabilità cittadina firenze in via del pignone fino al 26 novembre chiusura del tratto tra il civico 51 e lungarno del pignone muoversi in toscana è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio